Presidente, questa maggioranza ha già inserito all'interno del contratto di servizio l'AMA di municipio, per cui già sta portando avanti questo tipo di attività. Peraltro nella delibera che abbiamo appena approvato sui centri di raccolta, ovviamente laddove c'è lo spazio, in quelle aree si farà anche l'AMA di municipio. Saranno sicuramente, su 17 che ne abbiamo deliberate, qualcuna, non tutte 17 ovviamente dove sarà possibile collocare l'AMA di municipio. Pertanto su questo noi stiamo già lavorando, detto francamente per votare questo ordine del giorno in realtà è stato usato un termine non corretto perché dice coinvolgendo i municipi nella gestione dei rifiuti, sul controllo della gestione dei rifiuti, perché la gestione deve essere comunque centralizzata da punto di AMA e invece con l'AMA di municipio ci deve essere il rapporto con la cittadinanza, per cui i cittadini si devono rivolgere nel sito municipale, ci deve essere il controllo del municipio, del Presidente, della Giunta, del Consiglio rispetto alle attività che AMA svolge su quel municipio, ma deve essere del controllo, non della gestione, perché sennò avremmo 15 società diverse. Per questo motivo su questo ordine del giorno la maggioranza si asterrà. Grazie.